Cristo vive in te. Pastore intelligente e guida appassionata di una chiesa che ha amato fino alla fine, cultore dell'uomo perché uomo lo era, vescovo, tutto centrato su Gesù Cristo e sul suo Vangelo. Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ricorda Don Tonino Bello nel trentesimo anniversario della morte. Lo fa a Molfetta nella sua diocesi, tra le mura che spiega nell'Omelia, trasmettono ancora la voce del venerabile, non scontata e per nulla paludata, nutrita dalla parola di Dio, tanto che ciascuno sentiva quelle parole indirizzate intimamente alla propria coscienza. Sono i luoghi che aiutano a comprendere la storia e le persone, dice Zuppi, parlando dalla figura di un seminatore di pace negli scenari di guerra, che si ripresentano uguali oggi, a distanza di trent'anni dalla sua morte. Il samaritano, descritto nel Vangelo di Luca il paradigma della spiritualità di Don Tonino, la cui voce, ammette l'arcivescovo di Bologna, spesso è stata accolta con fastidio o sufficienza. Aveva una chiarezza evangelica, una parrisia, vuol dire parlare direttamente, parlare con trasparenza, tanto che lo capivano tutti. Qualche volta lo capivano, o meglio non lo capivamo. Credo che davvero sia anche un bellissimo esempio di vescovo che obbedisce a Dio e non agli uomini. E proprio perché obbedisce a Dio sa parlare agli uomini.